A Paternò, la moda e la qualità hanno un solo nome. Giuffrida Store di Mariella, dove trovi calzature, accessori e valigerie, delle griffe più esclusive per uomo, donna e bambino. Linee di tendenza irresistibili, collezioni firmate Tosca Blue, Ferre, Liu Jo, Cervino, Scarpe Frau, Valle Verde, Callaghan, Jackerson e molto altro. Giuffrida Store di Mariella, lo stile che sorprende. A Paternò, nella nuova sede showroom di Corso Italia 126, e nel punto outlet di via Circunvallazione 207. Info allo 095-2190-367 e sulle nostre pagine social. Da Giuffrida Store, in occasione del Black Friday, sconti particolari su tutta la merce. Cerchi consulenza e servizi assicurativi? La risposta è PAC. Cerchi servizi finanziari e bancari? La risposta è Etna Global Service. All'interno di un solo ufficio, trovi le risposte che cerchi per mutuo ristrutturazione, mutuo consolidamento debiti e surroga, mutuo per acquisto immobili e asse giudiziarie, polizze veicoli storici, assistenza a sinistri, polizze vita, fondi pensione, fidei usioni, polizze casa. PAC ed Etna Global Service. Un'esperienza più che ventennale al tuo servizio. A Paternò, in Viale dei Platani 47 49 51. Per info o telefona ai numeri 095 52 44 89 328 54 71 220 348 072 27 93. A Paternò, in Viale dei Tale, Nuova puntata del fatto, ben trovati agli amici telespettatori per questa nuova puntata di approfondimento giornalistico realizzato come sempre in collaborazione con la redazione di Chuck News e grazie al sostegno degli sponsor, che ringraziamo. Di cosa si parla questa settimana? Parliamo di sviluppo credibile, di sviluppo ecosostenibile. Non è la prima volta che al fatto sono presenti i rappresentanti di un grosso organismo che raccoglie le risorse del nostro territorio e che studia le attività che possono lanciare il nostro territorio tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità specifiche del nostro territorio. Parliamo dunque del presidio partecipativo del patto del fiume Simeto, per cui abbiamo questa sera la presenza del presidente del presidio, David Mascali, benvenuto. Grazie e buonasera a tutti i telespettatori. L'ingegnere Carmelo Caruso, socio del presidio. Grazie e buonasera a tutti. E la vicepresidente del presidio, Medea Ferrigno. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Bene, dicevamo, non è la prima volta che il patto partecipativo del fiume Simeto è ospite al fatto per parlare di quelle che possono essere le possibilità di uno sviluppo che ancora non è attivo, c'è veramente tanto da fare nel nostro territorio, sono tante le risorse che possono essere catalizzate e potenziate, così come sono tante anche le criticità che il nostro territorio comunque presenta. E voi del patto partecipativo del fiume Simeto, da molti anni già lavorate intorno a un tavolo di riflessione, avete anche raccolto le risorse dell'Università di Catania, avete messo insieme circa 60 associazioni e ben 10 comuni, che sono poi tutti i comuni che insistono sulla valle del Simeto. Un progetto dunque di ampio respiro, addirittura unico in Sicilia, quello che voi rappresentate. Vogliamo cercare di capire un po' meglio attraverso le parole del Presidente, di cosa si tratta realmente, cosa fate, come siete strutturati? Sì, tutte le parole chiave sono state elencate, quelle che meglio ci rappresentano, a partire da criticità, tutto questo percorso nasce da una enorme criticità, i cittadini di Paternò in particolare lo ricorderanno, l'inceneritore di Contrada Canizzola, parliamo ormai di parecchi anni fa, dalla protesta che si scatenò contro quella minaccia, contro quella criticità che stava per colpire il nostro territorio, il territorio ha avuto la capacità di auto organizzarsi e di invece passare ad una proposta e le proposte forti sono quelle che si nutrono sicuramente anche di un ampio coinvolgimento, coinvolgimento su bassa scala, come è stato appunto detto, una rete di associazioni ed è questo il presidio partecipativo, è una rete di associazioni di 10 comuni, decine di associazioni e cittadini che lavorano insieme tra loro, facendo rete, facendo massa critica e poi hanno pensato di formalizzare un'alleanza con l'Università di Catania che ci mette il metodo, che ci mette nelle condizioni di formulare delle strategie di sviluppo sostenibile per questo territorio e per questa valle e poi naturalmente le istituzioni, i comuni, quindi il presidio partecipativo è una rete di associazioni che insieme ai comuni e all'Università ha sottoscritto nel 2015 il patto di fiume Simeto, noi abbiamo scritto nella convenzione patto di fiume, a me qualche volta piace anche dire patto per il fiume Simeto, dove il fiume Simeto va inteso non soltanto come fisicamente l'asta fluviale, la sua connotazione reale di fiume che scorre alle pendici dell'Etna, ma anche come insieme di comunità che in questa valle vivono, operano, lavorano con una cultura come sappiamo millenaria, con un insieme di tradizioni, di criticità ma anche di potenzialità e allora questa alleanza tra istituzioni pubbliche, cioè i comuni, Università di Catania e associazioni ci ha permesso di formulare un grande piano di sviluppo sostenibile che poi è diventato anche molto concreto con progetti, con proposte progettuali che hanno peraltro anche ottenuto riscontro e finanziamento. Voi avete un organismo di governance all'interno di questa, del presidio che è il frutto di una elezione all'interno della realtà, no? Esattamente, il presidio come rete di associazioni è a sua volta un'associazione e quindi ha una governance, diciamo così, da statuto che prevede l'elezione di un consiglio direttivo, di un presidente, di un vicepresidente. Noi ci stiamo organizzando soprattutto nell'ultimo anno poi con diversi gruppi di lavoro che si occupano della comunicazione, si occupano della progettazione, su base volontaria peraltro, si occupano, adesso di recente si ne è formalizzato un altro che riguarda la democrazia energetica, cioè un piano per l'energia rinnovabile per la nostra valle. Questo è per quanto riguarda l'associazione, rete di associazioni, presidio partecipativo. L'altra grande innovazione che il patto invece promuove è quindi quando le associazioni insieme ai comuni e l'università devono prendere delle decisioni, quali progetti promuovere, quali strategie per la nostra valle, quali decisioni prendere. Questo è il patto di Fiume Simeto e questo ha un meccanismo di governance estremamente innovativo, che non ha uguali in Sicilia e pochi altri esempi nel resto d'Italia, cioè il fatto che il presidio elegge due rappresentanti nell'assemblea della valle del Simeto, che è formata dai sindaci, dai rappresentanti del presidio e dal rappresentante dell'università di Catania. Questo è un modo assolutamente straordinario per dare concretezza alla parola partecipazione, almeno noi riteniamo che sia così, perché significa che i cittadini possono direttamente attraverso il presidio interloquire con le istituzioni, interloquire con l'università e insieme elaborare piani, proposte, strategie, priorità. È stata una delle maggiori innovazioni anche nel campo della governance introdotte dal patto, purtroppo il patto da un anno e mezzo è sospeso, nel senso che la convenzione è scaduta e adesso siamo in attesa di un rinnovo. Abbiamo dei buoni segnali da parte dei sindaci, in occasione magari lo ribadiremo più volte anche dopo, perché per noi è una cosa molto importante. Nell'ultima assemblea i sindaci si sono pubblicamente impegnati a rinnovarlo quanto prima, però adesso è il momento di farlo concretamente, perché ci sono tante opportunità che ci attendono, ma dobbiamo essere pronti. A proposito di questa ultima assemblea che è avvenuta lo scorso 20 dicembre, nella quale avete avuto modo di fare il punto della situazione e soprattutto avete avuto occasione per pensare alle prossime attività, alle prossime azioni. La vicepresidente Medea Ferrigno ci vuole relazionare un po' quali sono stati gli atti di questa ultima assemblea? Sì, esatto. L'assemblea si è tenuta a Biancavilla, a Villa delle Favare, il 20 dicembre e ha avuto l'obiettivo di radunare tutte le associazioni che sono soggie del presidio, ma non solo, ma anche quelle che sono vicine al presidio, per fare un po' il punto della situazione, ovvero raccontare, abbiamo raccontato il percorso, cioè cosa abbiamo fatto soprattutto nel 2009 durante l'anno associativo e abbiamo dall'altro lato invece lavorato al piano d'azione per il 2020, ovvero abbiamo ragionato insieme a tutte le persone che sono venute, l'assemblea è stata molto partecipata, di questo siamo particolarmente contenti, abbiamo ragionato insieme su vari temi, su che cosa può fare il presidio il prossimo anno, ovviamente tenendo sempre ben presente qual è l'obiettivo di lungo termine, ce lo siamo detti più volte, l'ha ribadito oggi il Presidente, però interrogandoci anche quali sono i piccoli passi concreti che si possono fare, che possiamo fare tutti insieme. Uno dei risultati raggiunti è stato proprio la costituzione di questo nuovo gruppo che abbiamo citato prima, che è il gruppo della democrazia energetica, ovvero un gruppo di persone che sempre in maniera volontaria si sono proposte per lavorare al tema dell'energia, è un tema che ci sta molto a cuore, capire come l'energia può essere realmente sostenibile nella Valle del Cimento, quale strategia si vuole dare questa valle dal punto di vista proprio energetico. Abbiamo lavorato sul tema della cultura, sul tema dei finanziamenti della SNAI, dell'AIF, abbiamo lavorato sul tema dell'agricoltura biologica, abbiamo lavorato anche pensando e cercando di autovalutarci, cercando di capire quali sono stati i successi di questo percorso, quali gli insuccessi e in questo ambito il tema del rinnovo del patto è stato un tema molto dibattuto all'interno dell'Assemblea, cioè l'esigenza di rinnovare quanto prima il patto per il fiume Simeto. E proprio a proposito di questo sono stati anche fatti dei piccoli passi avanti, perché sono stati presenti all'Assemblea anche 4 sindaci sui 10 comuni, ovvero il sindaco di Paternò, il sindaco di Biancavilla, il sindaco di Adrano e il sindaco di Regalbuto, che hanno dichiarato pubblicamente il loro interesse nel rinnovare il patto e noi speriamo che questo sia proprio un momento in cui adesso dalle parole si passi e fatti e si dia concretezza a questi buoni auspici. Nell'attesa quindi che questa convenzione venga rinnovata e che quindi si possa continuare a dare respiro alla vostra realtà, quali sono stati, Ingegnere Caruso, i risultati che in questi anni voi avete già concretizzato? E da molto tempo, nel 2015 mi dicevate, la vostra realtà prende corpo formalmente, anche se come diceva il Presidente, il vostro lavoro inizia un bel po' di tempo prima con la questione legata all'inceneritore. Quali sono stati dunque gli obiettivi già raggiunti o comunque già avviati? Allora, nel corso di questi anni, dal 2015 in poi a oggi, il nostro territorio ha avuto la possibilità di realizzare tutta una serie di progetti e di strategie, appunto, di attività che erano già partite prima con il lavoro costante, appunto, delle comunità insieme all'Università e che hanno potuto, grazie appunto allo strumento del patto di fiume, avere una concretizzazione. Tra i più importanti risultati sicuramente abbiamo il finanziamento per la strategia nazionale delle aree interne, che appunto ha visto il nostro territorio scelto autocandidato, sì, proprio per l'innovatività del processo progettuale partecipato. Si tratta appunto di una strategia di sviluppo, nel nostro caso appunto partecipato per le aree interne del Paese. Un altro progetto importante, non tanto per la quantità di finanziamenti ricevuti, quanto per l'importanza e il prestigio del progetto stesso, è il programma europeo Life, che appunto, grazie al patto, tre comuni insieme all'Università sono riusciti ad aggiudicarsi ed è un programma che riguarda la resilienza delle comunità locali ai cambiamenti climatici. Altri risultati importanti che sarebbe opportuno ricordare sono tutti quei risultati che siamo riusciti ad ottenere grazie alla capacità del presidio e del patto di fare rete con tante realtà a livello locale e anche a livello nazionale e internazionale. Per esempio, con la rete isola che c'è, con un lavoro anche con le comunità e con tante altre realtà di tutta la regione, in collaborazione sempre con le istituzioni, in questo caso con l'ARS, con il Parlamento Siciliano, siamo riusciti a portare a casa una, ad impattare appunto sulla legislazione regionale con diversi disegni di legge, uno sull'agricoltura biologica e diversi altri su cui ci si sta lavorando appunto insieme, cittadini e istituzioni regionali. Un altro finanziamento importante è quello della linea del PSR 16.4 con cui il biodistretto che è un'altra delle realtà che è nata grazie appunto a questo nuovo modello di sviluppo portato avanti al presidio e dal patto che riguarda il sostegno alla filiera corta. Poi abbiamo anche delle iniziative portate avanti da giovani della nostra valle, come per esempio i ragazzi del gas Simeto che stanno portando avanti un progetto che si chiama Foodia Cafuria che mira, e qui si vede anche l'innovazione, la visione innovativa, a creare un'applicazione che possa mettere in diretto contatto i produttori locali con i consumatori locali. Tutta questa serie di attività non solo ci hanno permesso appunto di intercettare sul nostro territorio importanti quantità di finanziamenti, parliamo circa di 40 milioni di euro, che quindi portano l'info ed energia allo sviluppo locale, ma ci hanno permesso anche di tessere importanti reti e relazioni che vanno dal livello locale per passare al livello regionale, nazionale ed anche internazionale. Poco fa parlavamo della rete Isola che c'è, ma come questa siamo il presidio all'interno di tante altre reti regionali che dialogano con le istituzioni regionali. Con la SNAI siamo entrati in stretta collaborazione con diversi ministeri nazionali con cui appunto abbiamo in comune l'interesse a portare avanti delle pratiche innovative. Da diversi anni, ogni estate, nella nostra vada del Simeto si realizzano delle scuole estive con due università americane. Questo proprio anche sta a dimostrare come il nostro modello innovativo, tra virgolette, che fa scuola un po' e suscita interesse anche oltreoceano, perché queste università americane portano ogni anno nel nostro territorio studenti, docenti e ricercatori che vengono proprio a studiare e a conoscere da vicino questo percorso di sviluppo partecipato locale che è una cosa molto innovativa, quindi anche oltreoceano. Con la comunità europea, anche poco fa il Presidente parlava della nuova programmazione, si è creata anche una sintonia, perché come sappiamo la comunità europea nel formulare le programmazioni settennali cerca un po' di confrontarsi con i territori che più hanno sviluppato delle pratiche innovative, che possono portare sviluppo anche a livello sia locale che europeo. Vorrei concludere però dicendo che al di là di tutti questi risultati concreti, con reti di relazioni e finanziamenti che arrivano sul nostro territorio, io penso che i risultati veramente più importanti di questo processo siano due. L'acquisizione di un metodo nuovo, che è poi lo strumento che ci ha permesso di ottenere tutti questi risultati, perché è un conto che tu ricevi un finanziamento e finisce lì, un conto che tu invece acquisisci un metodo di lavoro che mette insieme con la partecipazione diversi attori, università, comunità locali, amministrazioni locali e quello strumento ti permette di andare oltre il singolo finanziamento, di programmare, di progettare a lungo termine ed è lo strumento che ti permette di avere molti altri finanziamenti, molte altre occasioni in futuro. E poi un altro risultato importante secondo me è anche aver cominciato a cambiare il paradigma dello sviluppo nella nostra terra, cioè siamo riusciti a dimostrare che la vera chiave per lo sviluppo sia quella di cambiare passo, di cambiare metodo e soprattutto di stimolare da un lato le comunità locali a partecipare, a interessarsi, a formarsi, a studiare, ad acquisire anche delle capacità progettuali e dall'altro le istituzioni ad aprirsi e a capire che dalla partecipazione possono soltanto trarre beneficio per il risultato anche degli obiettivi politici di un territorio, degli obiettivi progettuali di un territorio. È stato detto poc'anzi dalla dottoressa Ferrigno però che all'assemblea del 20 dicembre sono stati presenti soltanto 4 dei sindaci dei comuni del presidio, l'assenza degli altri è stato un problema, è un problema, rappresenta una mancanza di intesa, di sensibilità nei confronti di chi vuole rispondere? Su questo mi sento di rispondere io perché, diciamo per invece dare un segnale di ottimismo, nel senso che quella di dicembre era l'assemblea del presidio, quindi delle associazioni, non era l'assemblea del patto dove anche formalmente i sindaci sono tenuti a partecipare, erano quando il patto ancora era in vigore tenuti a partecipare in quanto l'assemblea del patto di fiume contempla sia la parte istituzionale, quindi 10 sindaci, sia l'università, quindi il rettore o il suo delegato e i due rappresentanti delle associazioni del presidio. Questa era invece una festa di comunità del presidio, delle associazioni, malgrado questo noi abbiamo diffuso la notizia chiedendo ai sindaci se volevano di venirci a trovare e sono venuti, quindi ecco perché la nota di ottimismo che mi sento di poter dire anche ringraziandoli pubblicamente come ho fatto a nome di tutto il presidio quella sera, pertanto è un buon segnale, sono venuti i sindaci peraltro di città che hanno anche un peso in abitanti è importante nella valla del simeto, che sono beneficiari già di risultati che il patto ha prodotto, quelli che l'ingegnere Caruso prima elencava, per esempio il progetto Life, uno dei più prestigiosi progetti europei, sono quasi 3 milioni di Euro che vedono Paternò, Ligodia e Ragalna tra i beneficiari o la strategia nazionale all'interno Adrano, Centuripe e Bianchevilla quasi 34 milioni, sono venuti, hanno ascoltato le proposte che la comunità stava elaborando partecipativamente e pubblicamente hanno detto noi ci impegniamo a, nell'arco di qualche settimana, poi chiaramente di mezzo c'erano le feste di Natale e così via, ma ci impegniamo nell'arco di qualche settimana a rinnovare il patto di Fiume, a risottoscrivere il patto con l'università e con il presidio. Io questo l'ho visto come un segnale positivo, è sempre difficile per la politica in generale, in particolare per la politica locale, diciamo come dire anche qualche volta stare al passo di una società civile che evidentemente sperimenta un fermento, una voglia di mettersi in gioco, di scommettersi, per mille ragioni, anche per ragioni contingenti, le problematiche che le nostre città vivono e così via, però registriamo dei segnali positivi e quindi siamo fiduciosi, però è chiaro che adesso, come anche diceva prima l'ingegnere Ferrigno, giustamente Medea diceva adesso è il tempo di passare ai fatti, abbiamo già perduto più di un anno per il rinnovo del patto, se lo facciamo al più presto chiaramente questo ci mette nelle condizioni di essere competitivi, perché abbiamo molti altri progetti in cantiere, molti altri fondi ed investimenti che potremmo attrarre per la nostra valle e per lo sviluppo della nostra valle e se mi permette di aggiungere un'ultima cosa, spesso autocommiseriamo come siciliani in particolare, come italiani in generale, raccontando la storia di una terra che in qualche modo è ormai quasi, diciamo è comunque in declino ed è quasi al capolinea, io ritengo che non sia così e lo sperimento tutti i giorni e lo sperimentiamo anche grazie alla linfa che viene costantemente prodotta da questi giovani professionisti che il nostro territorio ha formato. Medea viene da Regalbuto, Carmelo è un paternese ragalnese, diciamo così, che molti telespettatori sicuramente conosceranno perché è molto attivo in questo contesto territoriale, Medea lo è nel suo Regalbuto, questa credo che sia la Sicilia migliore che non si arrende, fatta di giovani preparati, entusiasti che hanno voglia di scommettersi, di lavorare per il proprio territorio perché lo amano e lo amano nel vero senso del termine, amandolo spendono il loro tempo e le loro energie per questo territorio e quindi credo che al di là di tutto degli investimenti, delle risorse attratte, il Patto di Fiume racconta una bellissima storia di coinvolgimento di giovani brillanti, lungimiranti che hanno una grande visione e un grande sogno per questa parte di Sicilia. Sono bellissime le sue parole, Presidente, viene davvero voglia di investire le proprie energie culturali, le proprie risorse umane in questo sogno di questa valle del Simeto. Medea, un'ultima cosa, come la immaginate alla fine questa valle del Simeto quando molti dei vostri obiettivi saranno concretizzati? Come dovrebbe essere? Un prototipo immagino per molte altre zone. Sì, grazie per la domanda perché è una bellissima domanda. Io lo voglio dire con una parola, la immagino coesa. C'è una valle, è un po' la parola chiave di tutto questo percorso, no? L'idea che associazioni, quindi società civile, istituzioni, mondo scientifico, quindi università, possano mettersi insieme e lavorare insieme, ma non come un fatto straordinario perché il pazzo di fiume, almeno il primo triennio, è stato quasi un fatto straordinario perché veramente siamo andati oltre l'ordinario, abbiamo cercato di costruire qualcosa di nuovo. Io immagino che questa cosa possa consolidarsi nel tempo e diventare un metodo di lavoro e una cosa, qualcosa di ordinario perché se c'è veramente qualcosa su cui vale la pena spendere il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse è quella di cercare di capire come tutti possiamo contribuire per la nostra piccola parte allo sviluppo di questo territorio, uno sviluppo sostenibile sicuramente, uno sviluppo che mette insieme tante facce della stessa medaglia perché il territorio è unico, noi abitiamo tutti quest'angolino di mondo e mi piace immaginarlo nel futuro come un angolino di mondo che ha sperimentato qualcosa di nuovo ma che poi l'ha messo in pratica e l'ha fatto diventare un metodo di lavoro, un modo per andare avanti. Sarebbe bellissimo, tra l'altro non avendo altri esempi che vi fanno da apripista un modello, siete voi che state sperimentando questa cosa, almeno qua in Sicilia. Quindi davvero tanti auguri al presidio partecipativo del patto del fiume Simeto, speriamo di ospitarvi nei prossimi mesi per raccontare qualcosa di buono dalla Valle del Simeto, ai telespettatori grazie per averci ascoltati e l'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori A Paternò la moda e la qualità hanno un solo nome, Gioffrida Store di Mariella, dove trovi calzature, accessori e valigerie, delle griffe più esclusive per uomo, donna e bambino. Linee di tendenza irresistibili, collezioni firmate Tosca Blu, Ferre, Liu Jo, Cervino, Scarpe Frau, Valle Verde, Callaghan, Jackerson e molto altro, Gioffrida Store di Mariella, lo stile che sorprende. A Paternò nella nuova sede showroom di Corso Italia 126 e nel punto outlet di via Circunvalazione 207. Info allo 095-2190-367 e sulle nostre pagine social. Da Gioffrida Store, in occasione del Black Friday, sconti particolari su tutta la merce. Cerchi consulenza e servizi assicurativi? La risposta è PAC. Cerchi servizi finanziari e bancari? La risposta è Etna Global Service. All'interno di un solo ufficio trovi le risposte che cerchi per mutuo ristrutturazione, mutuo consolidamento debiti, surroga, mutuo per acquisto immobili e asse giudiziarie, polizze veicoli storici, assistenza a sinistri, polizze vita, fondi pensione, fidei ussioni, polizze casa, PAC ed Etna Global Service. Un'esperienza più che ventennale al tuo servizio. A Paternò, in viale dei Platani 47 49 51. Per info o telefona ai numeri 095-5244-89, 328 54 71 220, 348 072 27 93.